ecco siamo tornati alla fattoria mi devo rilassare gli animali hanno bisogno di cibo va bene gli darò da mangiare io mangia mucca sono tutti inutili è ora di andare nei campi il motore del trattore non parte dovrò togliere il coperchio per arrivare al motore ecco fatto lo sapevo la cinghia del motore si è rotta dovrò andare a prendere dei pezzi in città il ponte trema ciao rasti che sta succedendo sono caduto dal ponte con la mia jeep non preoccuparti chiamerò una gru ritireremo la tua auto stai alla larga sto alzando il gancio fantastico metto il gancio reggerà reggerà alzala no 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 c'è così tanta acqua... proverò il motore... ahah funziona! nessuno attraverserà più questo ponte... dovremo sostituirlo subito! da questa parte! per di qua! attenzione! sto scaricando la base del ponte! questo è quello che chiamo un ponte su un fiume! ah! robusto! bene! allora posso mettermi al lavoro adesso! ci vediamo! ci vediamo! ci vediamo! ci vediamo!